Musica Bentornati ad un nuovo video della grande avventura di Snoopy Serie in collaborazione con nintendowall.altervista.org Ecco qui il nostro Snoopy che ci saluta come sempre, grazie Snoopy Quindi allora procediamo verso il prossimo livello che credo sia di qua A questo punto sì, ok, ci siamo, ci abbiamo dato se non altro Allora, zucche strambe Vediamo un po' se cambia magari un po' qualcosa l'ambientazione Non so, troviamo un nuovo costume, qualcosa del genere Perché altrimenti è un po' ripetitivo come gioco, devo essere sincero Comunque in ogni caso sembra che vi stia piacendo In molte mi hanno detto di continuare questa serie Quindi io vi sto a sentire ovviamente come giusto che sia Allora, qui dovrei cambiare un po' un costume Eccolo qua Perfetto Però prima magari, ok, prendiamo le caramelle che ci sono qui sopra Bene, poi torniamo indietro Uh, là su c'è un bracchetto scout tra l'altro, ho visto In ogni caso, prendiamo il costume da Indiana Snoopy Chiamiamolo così Invece che da esploratore, bellissimo Un Indiana Snoopy è stupendo Allora, ok, che diavolo è quella cosa? Aspettate un po' Cosa diavolo era quella fare lassù in cima? Cioè, ho visto che lanciava roba E tutto ciò non è molto bello Lancia palle da tennis Credo siano da baseball Credo, eh Visto Snoopy Visto l'ambientazione Credo siano palle da baseball Comunque Stiamo di saltare qua su Io direi di proseguire qui in alto Magari prendere tutte queste caramelline E cercare di non perdere il cuore Ah, caso Oddio mio, quanto rischiamo Perché no? Ah, ok Possiamo quindi distruggere anche lui Perfetto No, 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 no Via di qui prima che rinizi Ah, maledizione Non riuscirò mai a saltare senza essere preso qui Ok, invece ce l'ho fatta Ah, ah Grandi No, wei Oddio Snoopy Maledetto Salta qui Ok, perfetto Ce l'abbiamo fatta L'importante è questo Sì, non abbiamo scrigni sbloccati Non abbiamo trovato alcune chiavi in giro Mi piacerebbe trovarne uno ogni tanto per sbaglio Anche così Ma si è ucciso da solo o cosa? Quello di sotto Oddio mio Mamma mia Che rischio Vai Così Perfetto Poi prendiamo tutte queste caramellonze No Oddio No, 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 no Palla che ci segue Palla da baseball che ci segue Attenzione Ok Saltiamo di qua Perfetto Allora Tu prendi Ok Non possiamo andare lassù in cima Perché con questo costume tra l'altro Mi fa fare neanche l'elica Perciò non posso fare niente di particolare Però posso fare questo Che sono soddisfazioni anche queste Quindi Caro Snoopy Procede No Non così Non procedere così Snoopy Ok Allora Rifacciamo questo pezzo Saltiamo di Cioè Passiamo direttamente da sopra Invece di Passare da sotto e rischiare In quel modo Ok Per un altro siamo arrivati fin qui Sono soddisfazioni anche queste Quindi Io ora devo cadere giù Ok Ora Cadiamo giù Perfetto No Lì non ci vado Perché altrimenti Cado Oddio Perché ho rischiato di prendere in faccia Quella pallina da baseball Per quale oscura ragione Oh Bracchetto scout Oddio Sto rischiando veramente la vita a sto giro Comunque Bracchetto scout E qui allora La prendiamo No Oddio Tutto a caso Perfetto Importante andare a caso Che sono soddisfazioni anche queste Quindi allora Procediamo Procediamo Ok Pensavo di essere No Il cuoricino No 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 Quello Lo voglio Già che c'è qui Ok Perfetto Già che era lì Era bene prenderla Quindi allora Qui Ah occhio Benissimo Perfetto Tutte ste caramelle vanno prese Già che ci siamo Perché lasciarle lì E saltiamo qui sopra Oh Sì lo so Ho visto che lì sotto c'era un blocco Cioè un pezzo di livello Quindi mi sa che forse è meglio passare lì sotto Ok Sì Ok No Potrò Troppo alto Grandi così Grande Snoopy Pensavo di averci rinesso la codina Di Snoopy poverino E invece Io provo Vai in questo modo Ok Abbiamo preso tutto anche lì sotto Benissimo Quindi Risaliamo su Da questa parte E Ok Abbiamo preso tutto sopra Tutto sotto ma non sopra Ok Quindi procediamo Scusate la Momentane interruzione E Ok No Qui Perfetto Benissimo Lì come ci faccio Ce la faccio di qui Sì forse No Ale Ok Perfetto Benissimo Di qua Di qua si va Ma un segretino Non è che avrebbe fatto schifo È sinceramente un segreto messo lì così tanto per fare Non era brutto così Non lo so Io in quei muri così vuoti così spogli Io un segretino ce l'avrei messo Vabbè Ok No Il cuore Perfetto Benissimo Così Quello lo prendiamo E poi vai Nel nulla E poi vai Nel nulla Cosmico Vai Snoopy Nel nulla È bellissimo Ok Qui ci sono un sacco di caramellozze Che non prenderemo mai Alla prima Ma se non altro Proviamo a prenderne qualcuna Ok No forse invece Stavolta Le prendiamo Tutte credo Sì Le abbiamo prese tutte Non ha Sbloccato niente O mi sembra a me Cioè Se qualcuno ha il gioco E magari lo sa Me lo può far sapere Se quelle Caramelle Una volta prese tutte Sbloccano qualcosa Oppure non servono Assolutamente a niente No perché Altrimenti Non mi prendo la briga Di Ok Di prenderle tutte Sapete com'è la storia Allora E Prendiamo anche questo Ok Saliamo Oh siamo alla fine Aspettate un attimo Qua su ci andiamo No È quella caramella però Già che ci siamo Voglio provare a prenderla Sì Presa Ok Ora possiamo finire Il livello contenti E soddisfatti Perfetto Non è vero Ma insomma siamo contenti Lo stesso Meno quella caramella L'abbiamo presa Soddisfatti no Perché ne abbiamo lasciate Altre 10 miliardi 800 milioni In giro Per il mondo Ma questi Sono dettagli Come si direbbe Quindi Questo affare Si muove Perciò Allora Io con questo Nuova Con questo nuovo episodio Di La Grande Avventura Di Snoopy Vi saluto qui Vi ricordo Se vi va di visitare Il sito di NintendoHall.altervista.org Dove ci sono notizie Su Nintendo 3DS E Nintendo Wii U Praticamente Sui giochi in uscita Notizie a 360 gradi Sul mondo Nintendo Faccio prima a dire così Perché è la verità Alla fine Quindi Se vi va Mi raccomando Leggete la recensione Di questo La Grande Avventura Di Snoopy Trovate i link In descrizione Trovate anche Tutti i link Vari del sito Sempre in descrizione Di tutti i video Di questa serie Quindi Un saluto a tutti Da Axios00 Da NintendoHall.altervista.org Io vi ricordo Se vi va ovviamente Di iscrivervi Anche ai miei canali Facebook e Twitter Ovviamente Trovate i link Dove? In descrizione Ovviamente Quindi Un saluto ancora A tutti E alla prossima Ciao Ciao